Ciao a tutti i amatecnologi, oggi torniamo a parlare di D-Link per vedere la recensione della telecamera DCS80003LH eccola qui questa l'ho acquistata durante Black Friday a un prezzo circa di 75€ se non ricordo male ma il prezzo ufficiale non è molto più alto, si aggira tra gli 80 e i 90€ e vi lascio il link in descrizione se siete interessati all'unboxing così potrete vedere sia questa sia l'altra che è la 8000LH qualora siete interessati anche a quella cosa posso dire? questo è un po' il modello di punta e di link per quanto riguarda la videosorveglianza personale perché? perché ha 1080p di definizione perché ha un board, microfono e speaker posti nella parte sul retro che ci permettono sia di ascoltare quelli che sono i rumori ambientali ma anche di andare ad interagire quindi noi dallo smartphone possiamo parlare e chi è presente all'interno dell'ambiente monitorato può ascoltarci e poi ha la microSD per poter registrare sulla microSD quelli che sono gli alert derivanti dalla videocamera ovvero quando rileva un rumore diciamo troppo oltre soglia o un movimento sospetto lei invia degli alert allo smartphone ma al tempo stesso registra sul microSD questa è una funzione secondo me non così fondamentale perché vi ho già parlato dell'offerta cloud di mydlink che è molto buona e quindi tenderei diciamo più ad appoggiarmi a quella soluzione piuttosto che alla microSD però magari ci sono ambienti dove magari internet non è disponibile e quindi torna utile una soluzione del genere a livello di design colpisce quella che è la parte principale quindi quella intorno all'ottica perché è interamente nera nasconde i due led per gli infrarossi che sono posti diciamo ai lati del sensore fotografico poi sulla parte dietro vedete che è interamente forellata per lasciare uscire l'audio del rivente dello speaker la basetta invece è orientabile e ci permette anche il fissaggio a muro tramite due viti la cosa che non mi piace è diciamo l'eccessiva presenza della plastica anche nella basetta che avrei preferito magari vederla con un supporto un po' più durevole magari in metallo parliamo ora di qualità iniziamo dalla qualità video che devo dire non mi ha particolarmente entusiasmato abbiamo visto pochi giorni fa la DCS8000 che nonostante sia una 720p devo dire che mi ha convinto un pochino di più ma vi lascio il contenuto video che ho registrato per voi per farvi capire meglio cosa intendo e questo è un test video per mostrarvi la qualità dell'immagine ma non solo ascoltate l'audio mentre parlo così capite come registra anche quello per cercare di farvi capire che secondo me la DCS80003 tende un po' ad abbattere quella che è la luminosità ambientale a me mi vedete leggermente scura è vero che sono un pochino in controluce ma questo comunque non conta perché comunque in condizioni anche normali secondo me la luminosità tende a essere un po' troppo scura e questo è un piccolo difetto che ho notato in questa videocamera forse colpa del sensore che se non ricordo male è un f2.2 quindi leggermente più chiuso rispetto ad altre soluzioni anche la stessa DCS8000 che se non erro è un f2.0 e quindi questo è un piccolo difetto ma andiamo avanti con la recensione abbastanza buona la qualità video in notturna ma anche qua bisogna stare attenti alla riflessione della luce vi spiego brevemente cosa intendo se noi poniamo la telecamera su un ripiano e la posizioniamo molto all'interno di questo ripiano la superficie che sta davanti alla telecamera tenderà a creare un riflesso che andrà ad abbagliare il sensore e quindi l'ambiente risulterà molto scuro se non completamente nero e se noi facciamo avanzare la telecamera diminuiamo la superficie riflettente e quindi l'ambiente risulterà invece molto più luminoso quindi questo cosa vuol dire che dovete diciamo imparare a posizionare un po' la telecamera o quantomeno utilizzare diciamo l'inclinazione della telecamera per diminuire appunto questo effetto perché può veramente essere fondamentale decretare la visione o meno in qualità senza luce nei momenti senza luce diciamo profondità di visione 4-5 metri non andate molto oltre per quanto riguarda la qualità audio promosso il microfono perché il rumore ambientale il parlato ambientale si sente discretamente bene ma ha bocciato veramente lo speaker perché il volume è eccessivamente basso e non permette un'interazione veramente così fluida bisogna stare veramente attaccati alla telecamera per cercare di capire quello che viene detto tra lo smartphone e vi lascio un breve video per cercare di farvi capire anche a voi cosa intendo ciao a tutti io in questo momento mi sono rinchiuso in uno scantinato per cercare di non farmi sentire l'audio in camera però sentite che l'audio non è proprio il massimo non si sente fortissimo e non si sente neanche in maniera troppo chiara se devo essere sincero ok vediamo anche per la DCS80003 quali sono i settings che si può andare a toccare dall'app di Mighty Link vi ricordo che farò un focus ad hoc sull'app di Mighty Link perché le cose da poter fare sono veramente tante qua vedete l'anteprima ripeto ancora ci sono tre telecamere attualmente installate quella indicata come sala è la nostra 8300 andiamo a visualizzare la preview questa è l'immagine in tempo reale vedete i secondi che scorrono facendo un altro tap sull'immagine si accede proprio alla videocamera andiamo a vedere le impostazioni innanzitutto in alto a destra si può rinominare il dispositivo dargli una posizione all'interno della casa quindi in questo caso soggiorno l'impostazione wifi attivare o meno il microfono impostare il sensore di movimento a seconda di quelle che sono le nostre preferenze andando a variare anche la sensibilità del sensore e poi abbiamo la visione notturna quindi il fatto di tenerla automatica oppure attiva o sempre disattivata il mio consiglio dati i continui alert che magari si ricevono ogni volta che viene effettuato il passaggio da diurno a notturno è di provare a impostare la visione notturna sempre su on in questo modo la visione probabilmente diventa sempre bella chiara e si evitano quei falsi positivi di cui abbiamo già parlato con la DCS8000 poi c'è l'antisfarfallio tra i 50 e i 60 Hz questo vabbè non cambia molto la modalità privacy che è quella attivabile anche dal menu con i menu one tap i led della telecamera che è possibile andare a disattivare e poi c'è il menu archiviazione questo è importante qualora voi inserite la micro SD all'interno della telecamera già uno di voi mi aveva chiesto alcune informazioni probabilmente si era perso che all'interno di questo menu c'è la possibilità di andare a formatare e a indicargli cosa devo utilizzare per l'archiviazione cioè se io qua non indico che voglio utilizzare la scheda SD chiaramente lui non memorizzerà mai niente e quindi questo è importante qualora vi serve la scheda SD e poi c'è l'ora la versione del firmware eccetera eccetera andiamo a rivedere questo menu perché qua c'è l'unica differenza che possiamo vedere è quando abbiamo appunto la scheda SD inserita ci compare questo menu di solito se non l'abbiamo ci compare soltanto lo spazio di archiviazione in cloud scusate ma in questo caso abbiamo anche scheda SD e a questo punto noi accediamo a tutti i filmati che sono stati registrati vedete che l'icona ci indica se la registrazione è partita da un rilevamento sonoro piuttosto che di movimento e poi è possibile andare a vedere i singoli filmati questa gestione secondo me è veramente ottimale l'unica cosa è che non potete utilizzare comunque tutti i due servizi cioè o utilizzate la scheda SD o utilizzate il cloud uno esclude l'altro nella parte sotto invece abbiamo il menu il sotto menu diciamo che ci permette di attivare l'audio di impostare la definizione e di attivare il microfono come abbiamo visto però questa cosa funziona veramente male per via di uno speaker inadeguato in basso invece ci sono i pulsanti per poter scattare la foto o sulla destra per poter registrare un filmato in tempo reale filmato che però verrà memorizzato sulla memoria del telefono quindi per concludere promosso bocciato devo dire che ci sto veramente pensando se restituirlo o meno ad Amazon a livello di qualità video non c'è tutta questa differenza con la DCS8000 per monitorare un ambiente vanno benissimo entrambe e poi c'è lo speaker lo speaker che mi ha veramente tradito era una funzione su cui contavo molto ma il volume è veramente troppo basso e non permette di interagire in maniera naturale con quelle che sono le persone all'interno dell'ambiente tutto questo a fronte di un prezzo molto più alto perché stiamo parlando di una telecamera che costa quasi il doppio della DCS8000 e quindi quindi sto pensando veramente di restituirla va considerato se vi interessa o meno la microSD se avete internet o meno a casa e io ve l'ho detto se avete internet allora appoggiatevi all'offerta cloud che funziona molto bene ed è abbastanza economica se invece non l'avete dovete per forza andare su una soluzione del genere oppure sulla 8000 e 10 se non erro che anche quella ha la microSD ma costa leggermente meno è tutto per questo video come al solito mi raccomando mettete like condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao